Allora, salve a tutti amici, purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, molto anomalo veramente, dopo che avevo già parlato con un'altra persona importante tramite Skype, all'improvviso si sono cambiati i settaggi del microfono e praticamente non ho potuto sentire o ascoltare quello che stavo dicendo prima sul video che ho fatto precedentemente a questo, però tanto l'ho cancellato e se avete qualche problema scrivetemi in chat perché purtroppo bloccano pure le chat, non si riesce manco più a vedere in tempo reale quello che praticamente accade. Se state vedendo il video, se state sentendo quello che sto dicendo, scrivetemelo sulla chat perché sembra che sia tutto bloccato. La chat diretta del video, cliccate sul video e poi parlate attraverso la chat. Stavo parlando prima praticamente dell'evento di Esoterica 2017, il 15, 16 e 17 settembre a Parco Leonardo. Ci saranno molti conferenzieri molto importanti, si inizierà con la presentazione alle ore 14, di venerdì 15 settembre alle 14 della manifestazione dell'evento di Italia Esoterica. Poi parlerò io, Emiliano Babilonia, si parlerà dello spot televisivo che è stato fatto dell'evento di Esoterica e faremo la proiezione dello spot, poi farò una piccola relazione di apertura che parlerà del controllo mentale, delle manipolazioni radiocognitive, avremo in collegamento intorno alle 15 con lo scrittore Mauro Munari che è esperto anche di controllo mentale perché ha aiutato molte vittime che venivano attaccate con queste tecnologie facendo delle testimonianze. Poi c'è la presentazione alle ore 15 di Tarocchi, Diana Maria Morsucci, Antonella Eloi che ovviamente parleranno del libro anerente sempre all'avvenimento di Esoterica. Poi c'è un altro libro molto importante, Maria Cara Moscoloni, che parlerà sempre di un libro però parlerà sempre degli avvenimenti di Esoterica. Poi c'è la scrittrice sempre di Esoterica, Anita Boriello, che è presente sempre all'evento. Poi incominciamo con l'Istituto di Neuropatologie, che parlerà praticamente delle frequenze, delle patologie derivanti al corpo umano e tante altre cose. Poi inizierò io alle 18, venerdì 15 settembre alle ore 18, con la conferenza ricercatore di Neuropatologie, controllo mentale, manipolazioni delle masse, spionaggio, tecnologie di spionaggio e avremo la testimonianza dell'ex poliziotto e dei nuclei operativi della scientifica Riccardo, che parlerà delle manipolazioni mentali, dello spionaggio delle masse, controllo, servizi deviati. Alle 19 ci sarà la conferenza a cura del Centro Italiano Ricerche, poi ci sarà la conferenza a cura di Emilio Russo, direttore dei corsi di Italia Esoterica, yoga, presentazione dei corsi, meditazione, poi c'è la tradizione egizia, con Ida di Donato, poi c'è lo spettacolo di Francesco Sahar, e poi c'è la performance a cura del Medico della Peste, che ovviamente tutte queste persone sono sempre anerenti a Esoterica. Invece il sabato abbiamo la conferenza a cura di Adriana Lucas, poi avremo, ovviamente Adriana Lucas parlerà di angeli, esperienze extraterrestri, poi ci sarà il potere delle rune, la conferenza sul percorso runico, Anita Durmik, poi ci sarà la conferenza di Ivan Ceci, dopo Ivan Ceci c'è Luciano Gasparini, ovviamente qui parliamo sempre di sabato 16 settembre, poi c'è Laura Vaselli, aspetti giuridici della supersezione, poi c'è un altro ospite molto importante straniero, che è David Peorri, e poi c'è sperimentazione di metafonia a cura di Gloria Anseni e il suo gruppo, poi c'è la presentazione alle ore 16 del film Albe, della regista Elisa Fuxas, la figlia dell'architetto Fuxas, e parleranno anche di attori e le persone che hanno collaborato con il gruppo di ricerca, del centro di ricerca, poi dalle 17 alle 19 c'è la conferenza a cura del professor Alessandro Melluzzi e di Paolo Franceschetti, criminologo, esoterico, avvocato, il moderatore è il dottor Antonio Parisi, poi c'è la presentazione dell'ultimo libro, anche si parlerà del film, di Mario Cosentino, poi c'è la presentazione dell'ultimo film di Gary Persson, poi c'è la conferenza a cura di Gianluca Tizzioli, che è un ghost hunter, lui è praticamente esperto di paranormale, di avvenimenti spiegabili, poi c'è la performance strumentale di Valerio Vittori, e poi c'è Elisa, Raias, se non sbaglio, spettacoli di danza e cultura. Questo il sabato 16. Il 17 la conferenza a cura del dottor Luciano Pirotta, La magia degli specchi, poi c'è la conferenza di Raffaele Cavaliere, alle ore 11, presentazioni del romanzo La civiltà delle torri, a cura di Gyps Angler, alle 12. Poi c'è una piccola pausa pranzo, e poi c'è la conferenza a cura dello sciamano Nimro Silver, che parlerà ovviamente di questi riti sempre a livello di esoterica. Poi c'è la presentazione del libro Dominio, di Piero Ragone, e dopo c'è il dottore Antonio Parisi, Economia ed esoterismo. Poi alle 17 c'è la presentazione del libro di Paolo Franceschetti, Alla ricerca di Dio, Poi inizia alle 18 la conferenza molto importante di Paro Venturi, regista di Seggioni sulla Terra, derivante delle ricerche del professor Corrado Malanga, e ospite, a sorpresa, in collegamento Skype, Corrado Malanga. Non perdetevi questi momenti che sono veramente molto importanti e molto belli, anche da registrare, se venite lì all'evento potete fare anche qualche ripresa insomma della conferenza. Poi subito dopo ci sarò io verso le 19-19.30, ricercatore Emiliano Babilonia, con varie testimonianze e i collegamenti tramite Skype con il professor Paolo Cioni, lo scrittore di Neuroschiavi e Paranoia, nell'ultima edizione di Neuroschiavi, c'è la testimonianza di una vittima del controllo mentale che veniva attaccata con queste tecnologie. E poi c'è anche un intervento, sempre tramite Skype, di Rosario Marciano, che parlerà anche di scia chimiche controllo mentale a radiofrequenze. Poi c'è il concerto di Arpa Celtica e poi abbiamo ancora dei spazi ancora da definire. Voglio ricordare che c'è anche il palco esterno, quindi ci saranno le presentazioni dei libri al palco esterno, ci saranno le presentazioni di riti esoterici, si parlerà di determinati argomenti particolari, ci saranno degli eventi culturali di spettacolo, molte cose. Tutto questo verrà fatto il 15, 16 e 17 settembre. Ovviamente già stanno alcune persone, è veramente importante capire che le persone che saranno presenti a questo evento saranno presenti sia per passare tre giorni differenti, sia per cercare di stare tutti quanti insieme, di armonizzare le nostre frequenze, di trovare delle soluzioni relative al controllo mentale dell'MK Ultra, le manipolazioni radiocognitive. Io starò lì tutte e tre i giorni se voi volete venire, volete fare delle donazioni, non c'è problema, mi cercate, venite, parliamo, cerchiamo di trovare delle soluzioni che possano risolvere anche i vostri problemi. Ovviamente non è facile trovare una soluzione definitiva in 4 e 4, 8 sul controllo mentale sulle frequenze radiocognitive o le manipolazioni della realtà cosciente, però cercheremo tutti quanti insieme di restare uniti. Per adesso vi do una buona notte, ci vediamo il 15, il 16 e il 17 settembre, Parco Leonardo, evento gratuito, esoterica 2017, all'interno dell'esoterica 2017, conferenza internazionale con ospiti molto importanti. Voglio ricordare anche che il presidente del libro Mario Cosentino e avremo anche dei test, delle ricerche, delle analisi in tempo reale, avremo delle interventi tramite Skype o addirittura anche dal pubblico con ospiti di eccezione e tutto questo ovviamente gratuito alla conferenza 15, 16 e 17 settembre. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babilonio.